Allora, chi sono? Io sono da 17 anni nel mondo della consulenza aziendale, dal 1997, in contesti nazionali ed internazionali. Ho una serie di certificazioni che riguardano la mia attività consulenziale, sono un business coach iscritto all'Associazione Italiana Coach Professionisti, poi tutta una serie di coach, docente anche di pianificazione strategica presso il Master CFO dell'Università di Ferrara, abbiamo una cooperativa nell'ECCES, la Green Apple Team che si occupa di coaching e di formazione, quando ho visto i panni dell'ECCES e non quelli del milanese o del romano in su, e tanto tempo fa mi sono laureato. Sì, tanto tempo fa perché voi sapete che più passa il tempo, meno conta il voto, più conta poi l'esperienza. Quando si arriva già, tra virgolette, alla mia età, il voto ormai non viene, può anche non essere menzionato nel curriculum, devono essere menzionate altre cose. Mentre per un neodiplomato o per un neolaureato il voto è il bigliettino da visita, per una persona con esperienza no, ovviamente. Però questo è un altro tema, forse sarà un altro corso quando parleremo di come costruire un curriculum vitae. Ok, queste sono le mie principali esperienze e le realtà con cui fino adesso ho lavorato. Sono tante, sia italiane che estere, ma la maggior parte, penso il 99,9% sono a voi note, tutti i marchi e società note. Bene, mi sono già imbrodato da solo abbastanza, per cui partiamo. Partiamo con una domandona, che questo è un laboratorio, come tutti i laboratori che si fa. Si sta seduti fermi ad ascoltare? Ok. Per cui facciamo una domanda da un milione di euro? Perché siete qui? Perché siete qui? Allora, comincio io, ok? Così rompo io il ghiaccio. Perché sono qui? Dite anche il vostro nome cosa fate, brevemente, pochi secondi. Io mi chiamo Massimo Negro, quindi sono sempre quello di prima, e sono qui perché Luigi mi ha contattato, molto, molto trasparentemente. Vai. Sono uno degli artefici della creazione del laboratorio dal basso, quindi in primi sono qui perché mi interessa tutto il percorso. Io sono qui perché dovevamo organizzare un laboratorio, parlando di coach, ho incontrato nel caso di tuo collegio su internet, ci ha colpito, l'abbiamo condiviso, e quindi siamo curiosi di capire, sai, il coaching. Sono Marilisa, anche io, diciamo, sono in veste di organizzatore, però guarda anche il fuoritore di questo posto, in quanto comunque sono tematiche che sono strettamente legate alla nostra attività, però tematiche che vorremmo ugualmente approfondire. Guarda, Tommaso, faccio parte anch'io dell'associazione CoreLand. Sono qui perché sono molto, molto incuriosito da queste tematiche, anche quella del coaching. Mi chiamo Francesco, ho 49 anni, vengo da Brindisi, sono molto incuriosito dal coach. Vorrei saperne qualche di più perché vorrei intraprendere anche il corso personale. le tematiche affrontate sono sicuramente la rettiva, hanno molto lavorato in generale, quindi siccome sono tutte le garantite che si riscontrano spessissimo un lavoro molto interessante, pensate che si possa seguire. Molto bello. Sono Gabriele, sono un ingegnere informatico, sono qui perché sono orgulloso, perché voglio imparare cose e nuove, cose che il percorso di me studiare non mi ha formato, quindi sono qui per questo. Grazie. Sono Marilisa, sono una studentessa e sono qui perché sono da prima di che mi riuscire, se spingere questa persona che comunque non ha niente a che fare con quello che è questo. Buongiorno, sono Giovanni, lavoro presso la concessionaria di macchine a piccoli, che compra più direttamente dentro, io ho un'attentabilità attualizzativa, ma c'è un buon che imparano, ma adesso c'è qualcosa altro da imparare. Ciao a me, sono Domenico, lavoriamo in Pieve, quindi stessa azienda, solo vivo con la parte del post vendita. non so, però di me diciamo la gestione di otto persone, non è naturali, non è naturali, non è naturali. Ok, grazie. Bene. Partiamo? Allora, People Coaching, creare valore per le persone. Quando ho letto sto titolo e l'ho letto dopo, ho detto, ma che titolo è? Creare valore per le persone. Perché solitamente, solitamente, il coach si, come dire, si racconta, il coaching si racconta in modo un po' diverso. Poi ho riflettuto, no, è figa sta cosa qua, mi piace, perché sposta l'attenzione sulla figura del coach, che è quello che adesso andremo un po' a fare, a raccontarvi. Poi ci sarà una seconda parte, in cui proveremo, ovviamente, con una sorta di sessione di gruppo, a seguire alcuni passi tipici di un percorso di coaching, per cui poi io mi aspetto che siate di carta e penna muniti, altrimenti scattano dure punizioni motivanti. No, è importante che abbiate da scrivere, ok? Bene, allora, cos'è il coaching? Bra, tipo, con calma. Ok, ci arriviamo. Ci arriviamo a parlare di coaching, perché prima voglio parlare di altre cose. Sto borse lì, se non ho fastidio. Ok. Parliamo di ciò che può sembrare vicino al coaching, ma non è che poi sia esattamente il coaching, anche se c'è molta confusione. Oddio, anche sulla figura del coaching si raccontano cose strane, c'è anche una strana percezione, specialmente, lasciatemi dire, nella nostra realtà, perché già, se andiamo su Milano, su realtà, su altre città, la figura del coach già è più compresa e più conosciuta. Allora, il coach è uno del counselor, che è una figura tipica, che tipicamente la si trova all'interno delle grandi aziende. Il counselor è colui che consiglia, in buona sostanza. Dice anche la stessa espressione, è colui che consiglia. Io sono stato counselor per diversi anni all'interno dell'azienda. Questo mi regge, sì. perché non vorrei che facessimo il buttafico Instagram in diretta mondiale. Negro abbattuto. Mi trovavo a fare delle sessioni, degli incontri con le persone che mi erano state assegnate dalla direzione del personale, affinché nel colloquio si verificasse il percorso di carriera, come stava andando, i rapporti all'interno del team. Io, dal lato mio, ovviamente, davo dei consigli e il counselor, ovviamente, non impone da solo consigli e il counselor è lì, che devo poi, ovviamente, mettersi poi l'angolino del buon senso e fare le sue scelte. Il mentoro è una figura di counselor avanzata, sicuramente diversa. Diciamo che il counselor e il mentoring hanno come presupposto il fatto che, solitamente, parliamo di percorsi di lunga durata, il mentoring è una figura senior, è il famoso mentore, è colui che insegna, che forma, che ti dice come devi fare le cose, colui che fa una sorta di passaggio di consegna del proprio sapere, lo sapevo io, un passaggio di consegna del proprio sapere. Il formatore è io oggi, io oggi sono un formatore, io oggi non sono un coach, oggi ho la giacchetta del formatore, ho X ore di tempo per raccontarvi determinate cose che si è pattuito essere per me e per voi rilevanti, per voi perché mi avete chiamato, per me perché sono ovviamente intervenuto rispetto alla chiamata, finisce lì, io insegno determinate cose, gli do il bigliettino da visita, vi stringo la mano, vi dico è stato un piacere conoscervi e vado via, ok? Tempo limitato. Il consulente è una figura ancora diversa rispetto a quelle che abbiamo visto prima e rispetto a quelle del coach, perché il consulente è colui che non solo consiglia, come il counselor, il counselor è consiglio puro, il consulente non è il consiglio, il consulente fa, fa, cioè quando andate da un dottore commercialista gli affidate la contabilità o quello che è, non è che vi consiglia come registra una fattura, registra una fattura, registra una busta paga, si sostituisce anche a voi, perché voi gli affidate a un consulente anche un'intera area della vostra azienda, marketing, dimmi tu come devo fare la locandia, dimmi tu dove devo andare, dove mi devo promuovere, su quali mercati, si sostituisce quasi in alcuni casi per intero all'imprenditore. Ecco poi lo psicologo, il coach non è lo psicologo, questo mi imprime dirlo, perché oggi c'è quasi in alcuni la percezione che se uno va dal coach è perché c'è qualcosa che non va, cioè sta lì con la, non è così, non è così, è profondamente diverso. La figura dello psicologo ovviamente interviene sicuramente sui processi cognitivi, di cognizione delle realtà, di apprendimento e quant'altro, ma lavora sulla base di un tema importante che sta alle spalle di colui che ha bisogno di un percorso da uno psicologo. Molto spesso lo psicologo lavora intorno alla rimozione anche di determinate cause che creano dei blocchi. Poi vedremo perché il coach è diverso rispetto allo psicologo. Peraltro essere uno psicologo significa essere registrato ad un ordine, quindi c'è tutto un percorso normativo di accreditamento che deve essere soddisfatto. Lo psichiatra è un'altra cosa ancora, lo psichiatra cura, ecco, il coach non cura, non c'è, qui non c'è medicina, non ci sono medicine, non cura, ok? Quindi chi è il coach? Perché come dice io vado dal coach perché ho bisogno di. Poi di cosa hai bisogno, cosa fa il coach? Quindi chi è il coach? Cos'è il coaching? Ancora qua qualche minuto prima di parlarne. Perché adesso io vorrei parlare della tagline di questa prima mezza giornata e quindi è creare, quindi come creare valore o creare valore per le persone. Creare valore per le persone. Che se uno sta roba qua se la scrivesse sull'architrave della, buonasera, sull'architrave della porta di ingresso di casa, dal lato però interno, quindi prima di uscire, in modo tale che abbia bene evidente quando esce che uscendo deve creare valore per le persone. Secondo me rischiamo di tenere persone chiuse in casa per anni che hanno paura di uscire perché hanno timore di dire devo creare valore per le persone. Che significa creare valore per le persone? Creare. Creare è l'attività appunto di creazione. È un fare, un fare fisico, un fare mentale, psichico. Comunque è definire un prodotto, definire un servizio, un qualcosa che sia ovviamente utile o in alcuni casi anche per se stessi perché uno si può ovviamente creare per se stesso in alcuni casi. Ovviamente nel vostro caso dovete, quando parliamo di creare, state pensando ad un qualcosa tangibile o intangibile che sia fruibile per qualcuno. Che sia fruibile per qualcuno. Questo è molto importante perché si aggancia subito dove il qualcuno ovviamente sono queste persone qua e per voi deve essere ben chiaro chi sono queste persone qua. Un creare fine a se stesso vi può andar bene se siete dei geni assoluti altrimenti rischia di essere un mero dispendio di energie di risorse. Non siete come Cimabue che era già pazzo di su si alzava dipingeva eccetera eccetera. Ok. Però lì era una follia di diverso tipo. Qui parliamo di coaching parliamo di redazioni parliamo di persone quindi se noi abbiamo a che fare con delle persone e abbiamo questa relazione con le persone e dobbiamo creare qualcosa per queste persone. Che significa creare? Che cosa è ben diversa dal buttarsi dal improvvisare? Noi molto spesso ci buttiamo molto spesso improvvisiamo c'è un problema improvvisiamo c'è un problema ci buttiamo proviamo non ci prepariamo prima non creiamo non creiamo prima valore valore cos'è per te per te ad esempio questo corso lo potrai considerare di valore quando? perché un cliente compra qualcosa da voi e non da un altro? perché un cliente compra qualcosa da voi e non da un altro? quindi è un problema non è solo ci sono diversi elementi ne avete menzionati alcuni c'è il famoso imbuto del marketing che adesso è stato anche rivisto oggi diventa molto importante l'esperienza dell'acquisto e l'esperienza del consumo il famoso imbuto del marketing è diventato una crescidere è diventato adesso c'è anche un nuovo modello relazionale piatto non più a imbuto che significa quindi valore? significa dare un qualcosa di più rispetto a quello che l'altro è disposto a pagare o a impiegare questo corso avrà valore per voi vero valore per voi nella misura in cui il costo delle ore che voi starete qui seduti sarà inferiore rispetto ai benefici che ne trarrete se il beneficio che ne trarrete sarà inferiore rispetto al tempo impiegato qui ricordatevi il vostro tempo ha un valore e non parlo solo di business parlo anche di evidenza rimarcare il valore del tempo rispetto alle relazioni personali alle relazioni familiari allo stare con gli amici alle relazioni sane rispetto al dispendio di tempo vuoto che molto spesso c'è quindi anche nella relazione con il vostro coach o con la persona perché ovviamente si possono innescare delle relazioni di coaching anche di natura informale a come avviene all'interno delle aziende voi darete valore alle altre persone nella misura in cui nella misura in cui darete dei benefici agli altri persone di entità superiore rispetto al tempo che loro stanno impiegando state ad ascoltarvi e considerate che oggi il tempo è una delle risorse più critiche in assoluto che noi abbiamo non i soldi i soldi sono una fesseria il tempo oggi la vera risorsa critica è il tempo perché non sappiamo più dove sbattere la testa questa è la vera realtà e quanto più si automatizzano i processi per assurdo per assurdo anziché essere sgravati da tanto lavoro eccetera eccetera noi continuiamo ad incasinare sempre di più persone avete a che fare con delle persone davanti a voi ci sono delle persone queste persone sono quelle per le quali voi create qualcosa sono quelle per le quali voi vi dovete preoccupare di dare valore valore è anche un'informazione utile valore è anche una dritta utile valore può essere anche il fatto che in queste quattro ore che passiamo assieme io vi racconto cose che voi già conoscete però ve ne racconto una una sola 30 secondi vi accende la scintilla uscite fuori e vi mettete in moto quindi la percezione del valore è sempre molto molto legata alla singola persona ecco perché dovete sempre avere gli occhi fissi sulle persone con cui parlate ok a meno che non parlate con un orientale perché parlate con un orientale lo considero come un segno di offesa la cultura è diversa sì però gli occhi fissi significa capire bene osservare bene la persona che avete davanti perché se la persona non sta capendo la persona che avete davanti non sta capendo sicuramente voi potete aver creato la cosa più bella del mondo ma non state dando valore ecco perché queste tre parole messe assieme rappresentano la chiave di volta di qualunque tipo di reazione prodotto servizio business reazione personale professionale eccetera eccetera questa è la mia visione vi ritrovate? e quindi il coach com'è che crea valore? chi è secondo voi il coach dei due? quello inferiore quello che sta davanti io sarei più per questo io sarei più per questo però facciamo così questa slide poi al limite la rivediamo o ce la ricordiamo dopo che andiamo avanti allora definizione ufficiale ok? poi queste slide poi le avrete quindi non vi dirò io quando dovete scrivere ok? poi se qualcuno è scrittore compulsivo come me va bene scriva pure io quando sono nei corsi di formazione me ne frega nulla che dice dove le slide va bene fa fatto fammi scrivere poi si vede anche perché la scrittura è molto importante attiva tutta una serie di processi neurologici che ti tengono ancorato alla parola al concetto al momento quindi almeno per quanto mi riguarda il coaching è un rapporto di partnership che si stabilisce tra coach e cliente con lo scopo di aiutare quest'ultimo a ottenere risultati ottimali in ambito sia lavorativo che personale grazie all'attività svolta dal coach i clienti sono in grado di apprendere ed elaborare le tecniche e le strategie di azione che permetteranno loro di migliorare sia la performance che la qualità della propria vita professionale o personale proviamo a sezionarla allora intanto è un apporto di partnership che significa partnership non è che vado io e dico allora Tommaso tu da domani devi fare così punto ma muto muto ho detto no ok ok poi vedremo che ci sono anche delle sfumature poi le vedremo dopo ci sono diversi stili di coaching però è importante che ci sia un apporto di pari è un apporto tra pari ok è un apporto tra pari io posso avere tutta la mia esperienza alle spalle 17 anni multinazionali bim bum bam quando mi siedo con un neolaureato a fare coaching tutta quella roba lì mi serve non per mettermi su un gradino più in alto ma per aiutare allo stesso livello l'altra persona a crescere 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 assieme ok è un po' come se io mi dovessi come dire mi tolgo la giacchetta mi tolgo i gradi e parto allo stesso livello questo è molto importante è un apporto di coaching in cui il coach fa il figo rispetto a coaching questo non è coaching mi stanno fregando i soldi mi stanno fregando non mi stanno aiutando a crescere ecco aiutare il coach ad ottenere risultati ottimali chi è che deve avere i risultati ottimali? è il coach e il coach deve apprendere il coach deve elaborare le tecniche e le strategie di azione che permetteranno sempre al coach permetteranno loro quindi sono loro stessi che devono mettersi nelle condizioni di poi di migliorare sia le proprie performance che la propria qualità di vita poi ci torniamo quindi l'attività di coaching accelera la crescita dell'individuo e cosa fa? ha la funzione di far focalizzare l'individuo sugli obiettivi da raggiungere in modo come consapevole in modo tale che possa poi porre le scelte conseguenti necessarie affinché possa raggiungere quell'obiettivo quindi nel coaching primo passo è osservare dove si trova oggi il cliente e capire da lui eccoci che devi dire la meta in cui vorrebbe trovarsi domani quindi è un apporto di partnership io aiuto il coach ad ottenere dei risultati migliori però come gli trasmetto delle tecniche delle strategie di azione tecniche strategie di azione come la vogliamo chiamare metodologia la metodologia non è propriamente contenuto ok non è propriamente contenuto io posso insegnare a te cos'è un dare avere all'inizio del tuo percorso il dare avere è la metodologia il contenuto è la vedi tu quando arriva la fattura ok quindi sono cose diverse se ripensiamo alla definizione di counselor di mentor il mentor è proprio colui che trasferisce sapere conoscenza la figura del consulente che poi si sostituisce dice guarda cliente mettiti da parte anche perché più ti metti da parte più io guadagno o altre figure più legate a a problematiche caratteriali o di altro tipo come lo psicologo lo psichiatra la figura del coaching è la figura del coach è profondamente diversa la figura del coach non guarda al passato guarda al futuro a me interessa dove io oggi sei non mi interessa a meno che non sia proprio necessario è dentro certi limiti il percorso che hai fatto per arrivare lì a me interessa capire dove tu vuoi arrivare e quanto sei disposto a metterti in gioco e che prezzo vuoi pagare per arrivare lì il prezzo attenzione non è il prezzo che dovete pagare a me ma il prezzo che dovete pagare a chi a voi stessi a voi stessi allora quindi io che cosa faccio sostanzialmente il mio obiettivo è quello di scoprire rendere chiari ed allineare gli obiettivi che il cliente desidera raggiungere ecco perché vi ho chiesto prima perché siete qua la prima domanda che vi ho fatto è perché siete qua questa è la prima domanda chiave che si fa quando si sta in un rapporto di coaching perché siete qua domande aperte mai chiuse anche nei rapporti con il personale se c'è un tema di di relazioni c'è un tema da indirizzare che in cui bisogna agire non sulla tecnica ma sulle abilità sulle capacità trasversali quindi sulle tematiche di natura relazionale domande sempre aperte mai chiuse ho visto che poi si può anche arrivare a dire ho visto che però se c'è un malessere di fondo e volete capire il malessere di fondo dovete mettere le condizioni la persona che viene davanti di esporlo e il modo migliore per bloccare qualunque tipo di raccontarsi da presentarsi è quello di fare domande chiuse chiuse ok partite con le domande aperte poi man mano man mano eventualmente chiudete andando ovviamente a parlare non se siete in ambiente di lavoro non di come ha fatto il campionato la Juventus ma della problematica specifica di cui volete occuparne guidare il cliente in una scoperta personale di tali obiettivi la gente sente c'è molta gente che sente esigenza di cambiamento esigenza di volersi migliorare ma non sa in che direzione non sa bene su cosa allora l'obiettivo del course è quello di far venire fuori in modo chiaro qual è la vera esigenza di cambiamento poi dopo parleremo di obiettivi cos'è un obiettivo come si descrive un obiettivo come si forma un obiettivo e questo è molto importante perché è la molla principale da cui partire se io non agisco per scoprire e rendere chiari ed allineare gli obiettivi che il cliente desidera raggiungere si fanno delle sessioni di coaching non sedute le sedute le fanno gli psicologi e gli psichiatri delle sessioni di coaching in cui si può se io manco se io manco in questo punto posso tranquillamente giocare a carte è la stessa cosa il beneficio è comunque nullo se parliamo del più e del meno si può scegliere si può dire al cliente si può dire al dipendente per far sì che si sia a proprio agio di aprire con un argomento scegli tu l'argomento di cosa vogliamo parlare oggi come va come stai allora che ne dici come pensi stai andando che percezione hai domanda aperta però ovviamente bisogna guidare il coach guida fare in modo che le soluzioni e le strategie da seguire emergano dal cliente stesso questo è molto importante perché perché se no si crea un altro tipo di rapporto che non è quello del coaching è quello del consulente è importante che il coach stimoli il coachee a trovare all'interno di se stesso le giuste risposte quali sono le leve le vere leve su cui far forza per cambiare perché è ben diverso lo vivete quotidianamente un conto e se qualcuno vi dice devi fare così ma sicuramente avrete un piglio diverso e una livello di decisione di empowerment diverso se vi dicono rimaniamo rimaniamo nel campo del mondo del lavoro quello è l'obiettivo decidi tu come arrivarci quanto più autonomia e responsabilità c'è sia nel mondo del lavoro che nel mondo personale meglio è ci sentiamo più motivati più carichi altrimenti diventiamo dei meri esecutori e che non va bene e quindi lasciare piena autonomia e responsabilità al cliente questo è molto importante autonomia e responsabilità allora domande osservazioni sensazioni se avete capito se avete capito qualcosa dai breve due minuti di interventi liberi di te il coach diventa un tutt'uno con il cliente nel senso se faccio un riferimento facile facile allo sport il coach che viene identificato nel 90% dei casi con l'allenatore io lo vedo come parte diciamo del loro cliente in quel caso che è i giocatori credo quindi voglio dire il fine del coach è lo stesso del del cliente che sta diciamo allenando in quel caso quindi perché l'allenatore viene definito coach allora è un po' forse una forzatura o o è giusto che sia così allora il fatto che l'allenatore viene definito coach ci può stare però se vogliamo mantenere il piano linguistico allo stesso con la stessa terminologia l'allenatore ovvero trainer può fare anche il coach attenzione parliamo di trainer che fa anche il coach quindi quindi cos'è è coach in puro non la forzatura quindi no no è una figura è un giusto ibrido mettiamola così è un giusto è un giusto ibrido tra l'allenatore il trainer trainer training allenatore 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 training training uguale formazione in inglese quando io faccio quando vado nell'azienda quando vado nell'azienda a fare formazione il termine che utilizzo è training quando mi definiscono è trainer quando faccio lo definisco gli approcci è trainer o quello che è ok lì le due figure si intersecano perché da un lato c'è la necessità di disegnare di avere un obiettivo comune un obiettivo comune in cui a quel punto lì il il trainer che può essere anche un leader può essere più diverse queste cose le dovete visto quando avete fatto l'assessuale sul team coaching sono figure diverse possono essere figure diverse che possono coincidere o meno il coach non è detto che sia necessariamente l'allevatore perché l'allevatore può essere un bravissimo calciatore che può insegnare tutte le tecniche di questo mondo ma dal punto di vista della gestione delle azioni personali della motivazione può essere un cane con la rabbia a quel punto lì è necessario che qualcuno assuma dei vestiti di coach all'interno della squadra che può essere l'intervità della squadra può essere la fine dell'esterno come una mia può essere il presidente della squadra così anche all'interno dell'azienda il gruppo di lavoro dell'azienda sicuramente vi hanno raccontato che il manager non è il leader e il coach è una cosa ancora diversa sono tipologie che uno in base in base a quanto è aperto mentalmente può cercare di soroporre su di sé probabilmente non si creeranno mai delle figure di coaching più puro all'interno dell'azienda perché se io sono un team di libera io sono un dirigente di un'azienda a 30 anni ero già dirigente in nome di una multinazionale sono un bagno per definizione le persone mi cercavano per avere consigli eccetera eccetera però chi ero? ero il dirigente dell'azienda quindi è logico che in quel caso lì se parliamo di tematiche lavorative di malessere all'interno del gruppo di lavoro ovviamente posso far leno su un tempio coaching eccetera eccetera è auspicabile far leno perché io nel coaching arrivo a un certo punto in cui tu chi sei? tu sei il dirigente di un'azienda poi dei rapporti personali con il suo coach però posso assumere la figura del coach assolutamente sì il coach oppure anche del counselor o del mentor il coach fino a te più congeniale in base al contesto in base al contesto è logico che se stiamo in un contesto anche particolarmente spinto sotto stress e quant'altro lì viene fuori la figura del leader bold a caratteri pubbitali dove in tematiche del coaching in un ambiente particolarmente stressante in esperienze della vicenda eccetera eccetera diventano un po' più su un'auto allora lì si giova più sulle variabili della leadership sulla comunicazione sull'identità di valore di dubbio eccetera eccetera oltre le cose uguali in una sfera che si erano state anche settate no? cioè definite già all'inizio al tempo zero quando uno intero intero di azienda per cui queste figure qua le possiamo trovare combinate i determinanoni l'importante è capire bene il contesto l'importante è capire bene anche come cosa questi schemi prendere e portare anche come esempio all'interno della propria vita perché se uno guarda ad esempio se uno secondo voi secondo voi gli schemi di gioco di una squadra di basket o di pallacolo possono essere assimilabili a punto di vista dei principi delle idee alle regole del gioco all'interno dell'azienda perché no? sì o no? no perché no cioè vogliamo far vedere ok mi ricetti la scelta perché si possa subire sì o no? no perché no? cioè dipende da magari lo schermo in sé per sé non credo che si possa come dire attuare più in un'azienda se parla di passaggio tremo movimenti che in un'azienda non credo che ha quello senso invece a livello spese può essere diciamo che è uno schermo con il quale fa funzionare l'azienda cioè funzionano delle regole che in cui si stabiliscono prima e che tutti devono fare ognuno proprio compito come una squadra ognuno deve fare il suo teamwork o la stessa o per esempio se secondo non va parlando con gli schiacciatori e i calzatori certo secondo voi se dovessi creare una similitudine tra l'ambiente di lavoro in un'azienda di media dimensione e una realtà sportiva può essere più calzante una squadra di paladono di basket dove è vero che ci sono i gol però attimo stesso c'è una forte adattabilità sulle posizioni sulle sposte di futuro se voi vedete una mattina di paladono a dirà delle quali forse a fare si scegna poi c'è gli schemi di gioco c'è molta improvvisazione c'è un livello di adattabilità al contesto che è qui in quel momento che è altissima perché dipende come il gioco va dipende tutta una serie di cose dove praticamente la motivazione e la qualità del simbolo in alcuni casi sono in forma mentali e in alcuni casi è quasi disegnata quasi singolarmente diciamo la voce quindi possiamo prendere come esempio una squadra di paladono di basket o una squadra di calcio o di futura dove non abbiamo una singola persona che tendenzialmente importa la loro parte ma abbiamo il settore difensivo abbiamo il settore di centrocanto abbiamo gli attaccanti abbiamo delle relazioni tra di loro abbiamo delle sequenze di gioco quindi c'è quello che si chiama nel team coaching di interdipendenza sequenziale che è molto più efficace da trasmettere da trasmettere rispetto a degli schemi di gioco della palla a volo all'interno di un'azienda dove ne vedo i livelli di adattabilità di velocità di cambiamento sono diversamente molto molto più bassi rispetto a una scuola di balla o di basket dove in 30 secondi si brucia tutto basta 30 secondi un chiede se no la palla passa l'avversario sulla scuola di calcio con il football già i modi sono più impostati riparti passa la palla c'è una difensore centrale che avvassa pirlo piccoguardo serebo avvassa trumato c'è la camionera c'è la cross rodente stacolo eccetera ma vanno bene entrambi le due tipologie di esempio ma capito dove calarne se c'è un'azienda piccola fortemente dinamica con forte spirito di adattabilità e grande propensione a cambiamento all'interno allora ad avere degli esempi del basso della valore vanno bene se parliamo già di una media azienda con qualche decina di dipendenti con i vari dipartimenti eccetera eccetera quello che a questo punto va trasmesso all'interno dell'azienda è l'importanza anche dal punto di vista del business coaching l'importanza della interdipendenza della sequenzialità tra team ovviamente anche la persona questo diventa uno dei fattori chiave per entrare si formano le diverse parrocchie o le varie o le linee o linee di influenza qua si fa un po' più quello che non può ecco è una delle cose che bisogna stare a te allora quindi il coaching non ti ci posso portare io spero solo di poterti aiutare a trovare la prima e questo deve fare il coach quindi quando c'è quella figura prima ti sta in alto o ti sta in basso secondo me il coach è quello che sta in basso perché ti dice perché tu coaching definisci voglio salire una vetta però non ho quella giusta motivazione non ho ancora tutte le capacità belle aiutemi a e io come coach provo a far si che tu che tu salga con le tue gambe mi si studiisco a te quindi non so di raggiungere la vetta né ti prendo sulle spalle cioè devi fare con le tue forze da solo questo è molto importante la parte mia la parte del coach è necessaria che ci sia cosa che ci sia osservazione questo è fondamentale in qualunque contesto osservazione osservazione questo weekend ero a Bologna c'era Tim Galway che a gli anni 70 ha scritto The Inner Game of Penis il gioco interiore del tennis e da lui si è capitato con tutto il figlio del coaching moderno adesso ormai lo metteremo a oltre 70 anni però è abbastanza anzino e la tecnica del coaching moderno nasce proprio dall'osservazione 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 del coach verso il coaching per cercare di capire se le strategie che sta mettendo in campo sono quelle giuste osservazione dal coach verso se stesso per cercare di capire in primis lui se sta raggiungendo l'obiettivo che si è dato questo è molto importante osservazione anche in un altro senso io allora ieri sera sono arrivato da Milano e in aereo ho incontrato una persona anzi mentre andavamo in aereo una persona che ha visto il mio azienetto Anders Consulting ma io conoscevo o avevo un amico in Arthur Anders non lo so infatti adesso ci metterò penso una pescetta di scotch perché ha cominciato a fare 45 minuti di conversazione monodirezionale io dicevo ma io ah si guarda anch'io ho fatto quella cosa e ho detto ma conosco anche io ne conosco quella ma no era impossibile parlare cioè ha iniziato a parlare poi uno tentava di inserire insieme il discorso perché visto che mi stavi parlando sei così convinto di potermi parlare vabbè so che è stata la penitenza per le prossime tre quarti d'ora fammi almeno dire qualcosa niente era impossibile quindi osservazione significa anche insieme alla capacità di ascolto che non dovete parlarvi da soli se voi partite sia che fate sia se fate coaching sia se fate puro coaching sia se lo fate all'interno delle aziende sia se lo fate anche verso voi stessi che non dovete parlarvi da soli cioè non siete fidel castro ok con i vostri dipendenti non siete fidel castro con la persona che vi chiede consigli non siete fidel castro sapete fidel castro che fa no quando inizi a fare i comizi 7-8 ore di comizi ecco non funziona così ok dovete quindi osservare dovete stimolare osservare e avere grandi capacità di ascolto grande capacità di ascolto perché se non ascoltate non siete in grado di comunicare i bravi comunicatori sono quelli che partono dall'osservazione della realtà e dall'ascolto il resto sono fesserie poi ovviamente dovete guidare c'è una sessione di coaching c'è un dipendente che ha qualche dubbio qualche problema va guidato come va guidato lo vedremo feedback io vengo da te perché tu coach mi aiuti a migliorare voi dovete dare dei feedback degli stimoli feedback che non giudizi il coach non giudica non giudica da solo dei feedback dei feedback rispetto a cosa? rispetto all'obiettivi che il coach si è dato ovviamente mettiamo come dire a monte come presupposto che gli obiettivi siano eticamente e moralmente vari ovviamente quindi non è che l'obiettivo è rubare una banca farmi capire che punto si è col piano ok quindi è feedback rispetto al piano rispetto agli obiettivi e al piano che il coach si è dato non giudizi e poi fiducia e poi fiducia cioè se Luigina viene e mi dice Massimo io vorrei migliorare nella mia comunicazione non verbale o verbale devo tenere un corso sono uno che fa no perché sapete che voglio migliorare nella mia comunicazione io la guardo e che faccio? e mi metto a ridere lei che fa? cioè lei si sente già distrutta a col prima banalmente di dire se sì no forse quindi bisogna avere fiducia che il proprio coach ce la possa fare il coach che non ha fiducia nel proprio coach manca uno dei pilastri fondamentali del fare coaching se come coach ci accorgiamo che ci sono dei problemi insieme nell'avanzamento è logico che come coach dobbiamo essere sicuri che dall'altra parte ci sia la giusta voglia di migliorare di apprendere possiamo arrivare anche al punto di dire no ok stop percorso di coaching secondo me non hai il giusto livello la giusta spinta a migliorare la giusta spinta ad apprendere forse è il caso che ti prendi una pausa una riflessione e ci vediamo ci vediamo più in là perché attenzione il coaching non crea dipendenza il coaching crea indipendenza un coach che crea dipendenza non sta facendo coaching perché l'obiettivo del coaching è quello di far sì che il proprio coach possa riscoprire tutte le sue potenzialità e poi apprendere tramite le giuste strategie e metodologie tutto ciò che gli serve per poter andare avanti da solo la successiva vetta la dovrà scalare da solo essere in grado di scalarla da solo tendenzialmente questo è l'obiettivo del coaching non creare dipendenza ma creare indipendenza tutto chiaro? ci siete? a valore per voi quello che sto dicendo? quindi tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te è questo che io dico amico C tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te ed è così abbiamo già tutto dentro di noi io devo fare un'azienda però non ho i soldi quindi dove dentro dove dentro la tasca i soldi non ce l'ho dove significa dentro di te significa che dentro di te ci sono tutte le potenzialità affinché tu ti metta lì vuoi fare un'azienda ti sieda davanti a una scrivania e dica io ti dici io voglio fare un'azienda ok da dove parto ti insegno la metodologia i presupposti fondamentali quindi i principi di strategia aziendale i modelli di business i piccoli passi anziché il passo lungo o il passo medio però ricordiamoci ragazzi che Steve Jobs prima di diventare Steve Jobs aveva sede all'interno di un garage la maggior parte dei grandi industriali americani al di là di quelli che vengono dalle grandi industrie tipo i vai Rockefeller eccetera eccetera poi nel frattempo ci sono tutti quanti persi distrutti bruciati da droghe alcol eccetera eccetera la maggior parte viene da persone che si sono rimboccate le maniche e sono partite veramente dal basso dal basso io non so non ho non lo so la maggior parte hanno fatto uno studio negli Stati Uniti per verificare un po' il percorso di provenienza la storia di una certa fascia di dirigenti il 90% di questi era gente che all'università galleggiava galleggiava quindi erano dirigenti negli Stati Uniti la società privata negli Stati Uniti quindi questo cosa significa significa che il più delle volte la riuscita o non riuscita di un progetto non dipende dalle capacità tecniche che uno ha ma da ciò che ha dentro e quella cosa che tu hai dentro tu ce l'hai in modo innato sta a te sta a te tirarla fuori sta a te valorizzarla sta a te scoprirla domani parleremo non so chi ci sarà di voi domani parleremo come motivare come motivare i dipendenti i propri collaboratori ma io ho una teoria tutta mia che le persone non possono essere motivate tu puoi raccontare la tua esperienza puoi dare suggerimenti tecniche modalità ma tu il cipo della motivazione all'interno di una persona non lo puoi innestare c'è un punto in cui la motivazione non arriva il rapporto si interrompe è così le persone si automotivano non si motivano si automotivano io li posso insegnare posso raccontare come ho fatto io come me l'hanno insegnato altri come c'è da scendere poi a certo punto dopo che io ti ho raccontato tu capace che in quest'ora qui ti sei pure ipergasato torni a casa ti guardi davanti allo specchio e che fai la maggior parte dei casi svampa perché? perché ha sentito la mia esperienza ma non l'ha fatta sua non l'ha tradotta in un linguaggio proprio non si è automotivato io posso raccontarti come ci si motiva ma motivarti devi essere tu io posso io sono quello che va in giro con l'accendino io sono quello che va in giro con l'accendino che creo la scintilla ecco mettiamola così sei tu che poi ti metti nella situazione tale da far ardere il tuo fuoco all'interno sì allora tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te significa che tu ce l'hai sta solo te in qualunque momento della tua vita decidere quando ti darla fuori non è qualcosa che ti viene innestato ce l'hai già dentro è un po' come la parabola dei talenti cioè noi abbiamo i nostri talenti noi abbiamo le cose su cui i nostri valori le cose su cui noi abbiamo valore sta a noi sta a noi farle mettere in gioco è logico che se uno ha una bellissima vena creativa una bellissima vena creativa ma per ascoltare il padre è andato a fare giurisprudenza non lo so no? eh eh quello è molto importante ecco cioè bisogna creare le condizioni io posso il corso cosa fa? facilita la creazione delle condizioni affinché tu in modo autonomo parta io posso anche poi vedremo posso anche provare a spingerti a suggerire a fare però a un certo punto se tu non vai io anche posso stare lì così con la mano con la schiena a spingerti continuamente anche perché poi a un certo punto tu mi dirai eh ma bello mio ma alla fine i risultati che io volevo raggiungere e io che ti volevo dire e tu con il culo quando lo muovi è molto importante questo qua eh allora le sette forze del coaching autonomia dovete decidere voi deve decidere la persona che è davanti a voi se vi rendete conto che davanti a voi non avete una persona libera che è fortemente vincolata condizionata lì occhio c'è un problema grazie